Salve a tutti ragazzi, è MP4RUZORBET e benvenuti in questo nuovissimo video di Super Mario 64 DS a cui da stavolta la stella numero 54 da tantissimo tempo ragazzi che non faccio un video di Super Mario 64 DS da tantissimo tempo anche che non metto un video di Super Mario 64 DS quindi mi volevo scosare ma il mio intento in questi giorni era quello di finire a Smash Bros e diciamo che per fare i video ci sono riuscito, adesso devo ancora metterli e praticamente ragazzi oggi andremo a prendere la stella numero 54 di nuovo nel deserto in goia tutto che lo finiremo così per appunto finirlo e diciamo che andiamo immediatamente all'avventura, all'esplorazione della piramide toccami con Luigi e andiamo immediatamente qua a coso puttana allora a me mi sembra che questo livello se mi ricordo bene dalla mia esperienza di gioco ah innanzitutto vabbè è chiaro ciò che dovremmo fare, che dobbiamo fare ovvero andare nei pressi della piramide no? e qui però mi sta risucchiando, ah no per fortuna in questo caso ti devo dire grazie tornado perché insomma fa sempre comodo un tornadino no? tranne questi qui che ci rompono il cazzo, non lo voglio il tornado, vattene via oh ma finché non mi prende lui si ostina a viaggiare questo tornado, vabbè allora credo che dovremmo andare sempre nella cosa della piramide o mi sbaglio avevo, siccome non mi ricordavo bene il livello ho letto in una guida che dobbiamo andare sempre in cima alla piramide credo se no andiamo in quel buco credo che sia lì anche perché ragazzi in cima ci siamo già andati no 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 ragazzi allora è di qua, è da quest'altra parte è di adesso se ve lo faccio vedere magari allora ragazzi credo che sia qua spero che sia qua sì sì dentro la piramide, entrate dentro la piramide e trovate questo nuovo insomma mondo vedete ragazzi, è bello e niente, ciò che dovremmo fare state attenti qua alle sabbie mobili ecco io mi sono già intrufolato nella sabbia mobile allora come cazzo faccio a ritornare? ah, c'è una piattaforma lì, perfetto allora vediamo un po' ragazzi cosa dovremmo ma che cazzo è questo coso? madonna che paura, madonna beh, prendiamo il fiore potenza va? oppure prendiamo Mario per arrivare alla stella, non lo so perché non riesco a capire dov'è la stella vediamo un po' secondo me è lì in cima ah, proviamo a fare così perché Mario, credo che se noi prendiamo il cappello di Mario uscirà il fiore potenza di Mario il fiore potenza che ci trasformerà Mario qua all'oncino proviamo a prendere Mario tanto poi magari se non ci serve ci facciamo colpire da un Goomba almeno è la stessa cosa aia allora sì, fiore potenza ah, vedete ragazzi sì, sì, è ancora più su la stella dai, muoviti dai, 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 cazzo vai su, vai su, vai su ok, posso continuare anche da solo per ora innanzitutto devo vedere dove è la stella è ancora più in alto sì, bisogna attraversare queste piattaforme ragazzi oh, cazzo qui, fate in questa maniera è l'unica madonna è l'unica madonna oppure fate un pochino più veloce ma è molto più rischioso niente, ci arrampichiamo e raggiungiamo questo lato per fortuna ragazzi vi devo dire solo una cosina perché poi altrimenti è giusto che la sappiate a matematica al compito ho preso 6 meno siccome era un compito mega difficile o no anche se sono allo scientifico e non dovrebbe essere difficile niente insomma, voi dite però questo era molto difficile e quindi ci ho preso solo diciamo 6 meno anche se la maggior parte delle persone solo 6 meno non lo considera come un solo e infatti nemmeno io però purtroppo mia madre si e quindi posso continuare a fare i video senza che mi merito punizioni eccetera ragazzi prendiamo la stella e non so se è questa ho fatto completamente random questo gioco questo livello puppa spero dai, dai a quella esplorazione però sì tanto che doveva essere all'esplorazione della piramide ragazzi deserto ingoia tutto ce l'abbiamo fatta serve il continuo fa il salvato grazie, grazie, grazie mille per la stella ok ragazzi nel prossimo episodio di nuovo deserto ingoia tutto lo finiamo ormai quindi da più per ruzorbet e più per ruzorbet è tutto ciao a tutti